Questa mattina i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Pavia hanno arrestato per peculato quattro ex dirigenti delle società municipalizzate di Pavia ASM SPA e della sua controllata ASM lavori SRL nell'ambito di un'inchiesta della locale procura che nell'ottobre 2015 aveva già portato l'arresto di un ex funzionario di ASM Pavia SPA accusato di essersi appropriato di oltre 400 mila euro. Nel loro confronti il GIP di Pavia ha disposto tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e una ai domiciliari. Secondo quanto riferito dalle fiamme gialle, gli arrestati hanno predisposto ed autorizzato i pagamenti relativi a false note di accredito emesse per simulare la restituzione di ingenti somme di denaro al comune di Pavia. Tale condotta ha consentito di sottrarre alle casse societarie poco meno di 2 milioni di euro che sono stati accreditati su un conto corrente nella disponibilità di uno degli arrestati.